Ciao a tutti, sono Poli e Lorenzo. Stiamo ascoltando X-Transmission. James Shaw, anche conosciuto come SIGA, è un DJ london e produttore con una lunga carriera dietro. Il suo suono non può essere classificato sotto solo uno o due stili. È il risultato di una varietà di influenze come dubstep o rock. L'hypnotico, haunting e potente tecnico è sicuramente una cosa molto speciale. Inizia la sua carriera in scuba outflush ha rilassati su Blueprint e Avian labiati sui colleghi britannici, Shifted. Il suo ultimo EP, chiamato Un Tilt e Sign On Token o il suo secondo full album Metabolismo, rilassato nel 2017, è un esempio perfetto di quello che si aspettano da James. Molto pesante, profonda, teatrica. Siamo molto felici per ascoltare cosa ha in strada di 4X oggi. A presto! 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 Sì! A presto! A presto! Ezie a tutti! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.